E' fantastico, dottoressa, veramente fantastica, una cosa veramente importante questa. Noi adesso però parliamo di separazioni, come abbiamo detto all'inizio, dolorosissime le separazioni di una coppia, però poi si rischia di far pagare ai figli quel dolore della separazione, giusto? Sì, si rischia tantissimo di farlo pagare ai figli perché mi sarebbe piaciuto, ho pensato di fare una piccola premessa da questo punto di vista, ricordare che un figlio è spesso il teatro di scontro di una separazione molto dolorosa, ma è nella coppia il rappresentante della parte più difficile da elaborare della separazione che è la perdita dell'intimità di quella coppia. Cioè quella coppia aveva condiviso moltissimo da un punto di vista dell'intimità e quello rimane il dolore più grande che si trascina durante la separazione e un figlio tende a rappresentarlo. Dopodiché il bambino è anche terreno di scontro per questo conflitto doloroso che c'è tra le parti e può rischiare poi di doversi alleare con uno dei due genitori. Ecco, che cosa rischia, che tipo di disturbo rischia un bambino conteso? Allora, i bambini contesi rischiano moltissimi disturbi a partire da un'altra piccola premessa, come quella che avevo fatta prima, che i soggetti, le persone, gli esseri umani interiorizzano sì la qualità della relazione che hanno con il singolo genitore, ma interiorizzano soprattutto la qualità della relazione che c'è tra i due genitori. Quindi è una relazione molto violenta, una relazione molto conflittuale. Viene, come dire, interiorizzata dal bambino e quindi poi produrrà degli effetti tremendi in anni successivi quando lui dovrà fare una scelta di partner e comunque c'è una lacerazione interna importante. Sente, in genere i figli sono collocati dalla madre. Questo è un tema importante perché il genitore collocatario, che prevalentemente è la mamma sicuramente, ma adesso le cose piano piano stanno cambiando, è il genitore che può incidere ed incide di fatto di più nella relazione che il figlio può avere con il genitore non collocatario. E certo, ovviamente, perché è più presente, no? Perché è più presente, perché comunque ha una quotidianità e un'intimità che fa sì che l'altro venga costruito, ricamato, cucito nella mente del bambino tutti i giorni, in tutti i momenti, nei momenti più intimi e questo dà un enorme potere al genitore collocatario. Ecco, denigrare l'altro genitore. Denigrare l'altro genitore significa costringere il bambino in qualche modo a denigrare una parte di se stesso, perché l'altro genitore è a tutti gli effetti una parte del bambino. Quindi un danno enorme. Un danno enorme che il genitore collocatario deve riconoscere, deve riconoscere che il bambino è rappresentante anche di quel marito o di quella moglie di cui ti sei voluto liberare, perché poi la denigrazione la fa il genitore collocatario, ma a volte la fa anche l'altro genitore che, pur non essendo collocatario, magari quando vede il bambino durante il sabato e la domenica, eccetera, può avere parole pesanti. Questo è un dolore enorme nel bambino, una lacerazione ed una perdita di una parte di sé. Quindi in linea teorica diciamo che i figli di persone che stanno affrontando una separazione, o che l'hanno affrontata, dovrebbero poter essere seguiti a livello psicologico. Sarebbe importante, laddove non riescono, come dire, a dirimere la questione tra loro. Certo, se non c'è un'armonia, diciamo, in qualche modo. Grazie, grazie dottorissa.